Namaste, bentornati su Vitality Tao. Io sono Antonia e la pratica di oggi si intitola Vivere il cambiamento. In questi giorni sono stata particolarmente colpita e ispirata da una delle più famose frasi di Gandhi che dice si il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo. Questa frase mi colpisce molto perché credo che sia proprio un cambiamento della propria prospettiva, una sorta di presa di coscienza del fatto che si ha una responsabilità rispetto al mondo in cui si vive e si ha anche un potere per poterlo cambiare. Ne ha fatto venire in mente questo anche il collegamento che ha con i neuroni a specchio che sono quella serie di neuroni che vengono attivati nel nostro cervello quando osserviamo un'azione fatta da qualcun altro e che richiamano appunto quei neuroni relativi alla stessa azione fatta da noi. Sono quei neuroni che ci permettono di riconoscere le azioni nell'altro e che si attivano anche quando viviamo delle emozioni e quando vediamo le stesse emozioni nell'altra persona. Per cui la pratica di oggi sarà focalizzata su questo, cioè sul modo in cui possiamo trovare la forza della nostra intenzione di cambiare le cose che ci stanno attorno in prima cosa partendo dal cambiare dentro di noi. Perché nel momento in cui troviamo questa forza dentro di noi che secondo lo yoga si trova principalmente nel cuore, possiamo esprimere la nostra disponibilità a servire un obiettivo più grande. Per cui il lavoro di oggi sarà principalmente tratta di khair. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Assolutamente. –ба è verra da quella con te stשizione P Bienenziata.